Noi andiamo avanti con il giornale, dopo mesi di polemiche e di tensioni il Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali Salvatore Settis è dimesso dal suo incarico in disaccordo con il Ministro Bondi e con la sua politica dei tagli, commissariamento dei siti archeologici romani della chiusura, dice Settis, verso i giovani. La tempesta si è abbattuta sul collegio romano, Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, si è dimesso da Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, l'organismo che ha il compito di esprimere pareri sulla gestione del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico della bella Italia. Dimissioni in dichiarata polemica con l'operato del Ministro Bondi, che per risposta ha immediatamente nominato come suo sostituto Andrea Carandini, archeologo di fama. C'è, io temo, una crescente delegittimazione del personale della soprintendenza, del personale del Ministero. Continuerò a impegnarmi da cittadino, la qualifica di cittadino è molto più importante di quella di Presidente del Consiglio Superiore. Le accuse, oltre al blocco delle assunzioni, il taglio di un miliardo alla spesa, il ricorso ai commissariamenti straordinari per le soprintendenze archeologiche di Roma e Ostia, dopo Napoli e Pompei. La nomina, non ancora esecutiva, super manager alla valorizzazione dei musei dell'ex amministratore delegato di McDonald's Italia. Io ho risposto non sul piano ideologico della propaganda, ho risposto sul piano dei contenuti. Io mi aspetto un confronto sui contenuti. Sullo sfondo è il sospetto di voler far fuori tecnici ed esperti, capaci di opporsi ad uno sfruttamento più commerciale che culturale del territorio e dei nostri tesori. Che altro significato può avere questo? Se non una rinuncia alla tutela pubblica e ai suoi organi tradizionali, istituzionali. Grazie a tutti.